Mi faceva sedere sulle sue ginocchia. Sin da bambina ho visto mio padre come un idolo. Quando sono diventata un po' più grande mi faceva sedere sulle sue ginocchia e mi pizzicava sulle cosce. Sentivo che provava piacere quando lo baciavo. Mi parlava, io lo guardavo e rimanevo con gli occhi allagati di lui. Quando mia madre morì ed io rimasi sola con mio padre paragonavo ogni probabile marito alla personalità idealizzata di mio padre e perciò non mi sposavo. Intanto mio padre mi adorava perché ad un uomo piace adorare una donna ma io ero sua figlia. Così la mia giovinezza è scivolata come un rivolo d'acqua e adesso di lei non mi è rimasto nulla se non l'ampio silenzio delle nostre serate di lettura. Io seduta di fronte a mio padre e mio padre seduto di fronte a me come due innamorati. Commento Le esasperazioni affettive a cui la scienza cioè la mente attribuisce il nome di una patologia hanno come tutto una motivazione trascendente. Spesso chi ama il padre o la madre in maniera parossistica. In vite precedenti li ha amati oppure odiati con altrettanta intensità. Oppure non ha amato i propri figli o li ha costretti all'esperienza di un amore non corrisposto. Buon appetito. Grazie a tutti.